Un po' qua, mentre il gioco c'è la spalla e la sala è la parte potente. Questa parte potente si diceva un movimento più grande, sono stati finiti, no? Allora per fare questo gioco, la parte potente coinvolge il ruolo spettamente alla parte bassa. Allora praticamente devi attirare altri motori, ma invece normalmente faccia il ruolo di questo motore qua, solo i bassi muscolari con la spalla e questo è possibile. E' quello che sto sentendo. Allora, c'è un'altra cosa, questi esercizi non si possono capire al periodo, non c'è una spiegazione al periodo. Io te l'ho portato, ti sto spiegando perché non puoi portarlo, perché se tu usi la spalla e ho solo questo fascio di muscoli, muovono, perché quando uno lavora il gioco, la regletta tutto il peso, capisci? Allora tu non puoi poter stare con il quattro muscoletto che è qui, tutti i muscoli del corpo, per poterlo fare devi attivare. Il lavoro è come attivare la muscolatura. Quindi lo faremo? Sì, questo è l'esercizio. L'esercizio lo invaria e lo capisci con la faccia. Allora noi... Quando qualcuno ti mette la forza, diciamo che la forza sempliciamo per particolare la schiena, tu non puoi mettere a stare con la forza o per particolare, perché lui ha la forza. Allora lui dice che fai in modo che questa forza sia scaricata qua. Un po' se tu prendi una boccia fessante, cioè non si fa una grattina. Idealmente se tu riesci a appoggiare sulla spalla, diunque non so se tu riesci a fare, se è andato a super giocato, è una storia classica di acqua, se è bottiglia d'acqua, e alla volta che scende, se te l'appoggi su una spalla, ecco giù. E la volta che fai, se lo spessi, devi annullare questa volta. Fare in modo che non facete parte la scala, e a parte la scala. Questo è 99.000, non passi. Questo è 9.000, non passi. Se non ho fatto una venta spettiva, non riesci a separare una venta. Se non ho fatto una venta spettiva, non riesci a separare una venta. Se non ho fatto una venta spettiva, non riesci a separare una venta. Perché se tu sei tutto un monopropo, ti occupori direttamente la venta. Non riesci a separare una venta. Non riesci a separare una venta. E qua, lui dice, in realtà, se non la devi, puoi lasciare una venta, la devi succhiare dentro. Un po' come quando copriamo la motta, perché seguisci la spitta. Da solare il tuo corpo, non confondis direttamente. Questo si capisce, solo la venta. non riesci a separare una venta. Come si capisce, solo la venta. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.